buona meglia fritta di pasta ragazzi guardate qua che bellezza l'ho girata da poco e fa un po vi farò vedere il risultato finale c'è una bella faccia non mi voglio che cosa vuoi fare questa frittata si esce in uno spettacolo domani sulla spiaggia di Miami Beach riportiamo questa frittata di pasta ecco qua ragazzi la frittata di pasta è pronta guardate qua adesso si deve solo rinfrescare un po s'andosta bello come già sai e poi ce la parliamo ciao ragazzi un bacio